ciao lucia oggi vi faccio vedere come si fa la caterinetta vedete guardate come è bella ne ho fatta anche una un po più grossa ve la faccio vedere infatti con questo film filato che è più facile da da vedere in video diciamo eccola qua adesso vi faccio vedere come si fa così allora con un uncinetto e un uncinetto diciamo ausiliario siccome dovremmo dovremmo usarlo da questo lato quindi dalla parte dove non ha l'uncino vi consiglio ovviamente di usare un uncinetto o qualsiasi altro ferretto è anche un ferro da maglia non è non è importante che cosa sia ma ci servirà per appoggiare il lavoro quindi ci serve che sia come questi uncinetto in alluminio quindi che non abbia diciamo il manico in gomma dal quale comunque non si può infilare il lavoro quindi adesso vi faccio vedere subito come si fa allora abbiamo il nostro filato ne ho scelto uno bello grande per farvi vedere meglio facciamola no e il nostro cappietto scusate riuscita dall'inquadratura il nostro cappietto e facciamo tre catenelle io adesso vi faccio vedere quella 3 ovviamente si può fare anche quella a 4 con lo stesso procedimento adesso facciamo questa 3 allora ci rimane il cappietto iniziale quindi l'ultimo cappietto sulla uncinetto entriamo nella seconda catenella e carichiamo il filo e lo lasciamo sull'uncinetto entriamo nella prima carichiamo il filo e lo lasciamo sull'uncinetto quindi a questo punto noi abbiamo i nostri tre punti sull'uncinetto cosa dobbiamo fare allora normalmente per fare la caterenetta andrebbero sfilati due punti tenuti fermi e lavorato il primo poi ricaricato e lavorato il secondo ricaricato e lavorato il terzo siccome a me cadevano e si sfilavano io che cosa faccio sfilo così due punti e li lascio su questo ferretto con la mano normalmente sinistra con la quale caricherei il filo lo carico per l'appunto e lo faccio uscire tramite il cappietto che avevo sull'uncinetto prendo il secondo punto così da sotto tengo fermo così carico e faccio uscire dal secondo cappietto e lo sfilo dall'uncinetto ausiliario sotto carico il filo e lo faccio uscire vedete attraverso il cappietto e poi posso sfilare tranquillamente il nostro uncinetto ed è fatto il nostro primo giro di punti quindi rientro sfilo due punti e uno lo lascio sull'uncinetto vedete in questo modo carico il filo se vi è più comodo tenetelo come di solito e fatelo girare come come vi viene più comodo faccio passare attraverso il primo entro nel secondo in questo modo vedete così entro nel secondo carico il filo lo faccio passare attraverso e lo sfilo ecco qua che prende forma la nostra bella catena dopodiché rientriamo gli sfiliamo di nuovo due sempre carico il filo faccio uscire dal cappietto ecco qua entro nel secondo faccio uscire dal cappietto e sfilo ecco qua il terzo faccio uscire dal cappietto ed ecco qua vedete che sta prendendo forma di nuovo rientro sfilo i nostri due punti avvolgo sul primo faccio passare dal cappietto e lo sfilo dall'uncinetto me ne rimane uno sull'uncinetto ausiliario entro da sotto avvolgo tiro sfilo l'uncinetto ecco qui ve lo faccio vedere un'altra volta entro sfilo due punti e ne tengo uno avvolgo faccio passare uno avvolgo cioè entro avvolgo faccio passare due entro avvolgo faccio passare tre vedete per chiuderla si fa in questo modo faccio passare la prima tramite la seconda la seconda tramite la terza dopodiché faccio un una catenella di sicurezza e guardate ecco qui la nostra caterinetta da tre vedete è molto molto bella poi questo con questo filato bello cicciottoso è veramente molto graziosa io spero che vi sia stato utile questo questo video ve l'ho fatta vedere perché ce n'erano varie tecniche in giro e io ho voluto farvi vedere come la faccio io perché prossimamente avevo in mente di farvi vedere qualche progettino che prevedeva appunto l'impiego della caterinetta e non tutti hanno la classica macchinetta per farla quindi secondo me era un metodo per per poterla realizzare tutti ovviamente avrete notato che è molto simile come farla diciamo con i ferri infatti usando due uncinetti da un po l'impressione di lavorare ai ferri e non all'uncinetto io mi trovo comodissima con questo metodo è velocissimo soprattutto non vi fa scappare i punti non li fa cadere io spero veramente che vi sia stato utile questo vedete com'è carina vedete anche per un adesso fatta con la lana però vedete anche questa come come braccialetto come come collanina come insomma è molto molto graziosa e secondo me può essere utile anche per un sacco di impieghi un sacco di lavoretti io spero dalla mia postazione un po insolita di essere stata come sempre esaustiva di essere stata chiara nelle spiegazioni spero che vi sarà utile questo video io per ora vi saluto vi mando un bacio ciao ciao da lucia e non dimentichiamo vi aspetto sul mio gruppo facebook creando con luce franci ciao al prossimo tutorial